Il Maggiore Dante metterà anche la sua corona attorno per ricordare il fatto che il suo, il Maggiore dell'esercito inglese, per ricordare che gli inglesi hanno ovviamente combattuto, come voi sapete, che hanno conto in realtà. Il Maggiore切o è la sua conversione, per il suo�ito spogliere il mondo del loro, come sempre quello che è in maniera dal fatto, è in maniera nella doverna pongamata, qui li ha un adette di tre crossañ, di percadre, di percadre, di percadre. Grazie a tutti.